Ciao, sono Miriana e frequento il quarto anno dell'indirizzo SIA. Ciao, sono Michele e frequento il quarto anno dell'Istituto Luigi e Napoli, indirizzo SIA, sistema informatico e zainato. Ho scelto questo indirizzo perché ho seguito la mia passione per l'informatica. Questo indirizzo ci fa migrare le competenze base per affrontare il mondo del lavoro. Grazie anche al numero di ore previste dal piano di studi. Anche in questo periodo positifico è uno dei pochi settori che continua ad assumere personale, soprattutto nel settore della cyber security. Ciao, sono Naomi e che dal nostro corso di studi ci formano in materie sia economico-giuridiche sia in quelle tecnologico-matevattiche, fornendoci così una conoscenza sia del e di pulga che teorica, che agevolerà un'avventuale percorso sull'universitàio. Per chi invece non vorrà proseguire gli studi, potrà comunque inserirsi in azienda oppure offrire servizi di consulenza tecnica come libero professionista. Il corso SIA ci permette di apprendere e utilizzare diverse tecnologie di informazione, come Java, il linguaggio con cui eseguiamo tutte le app dei nostri smartphone ed altre tecnologie di informazione. Everyone uses information technology every day and in several fields, such as social media, e-commerce, e-banking, government services and so on. But few people know how these services work. At Anaudi we learn how and why. In the last 10 years the whole world has changed and it is still changing. Acquiring computer skills increases your opportunities of finding a good job because our future is based on information technology. Come to Anaudi! Join us! Scegli Anaudi!